e siamo giunti alla metà del primo giorno di campus ma senza che sto qui a cincischiare intanto stiamo parlando della giornata dedicata al gel con la nostra Irene Merlo salita in cattedra ma venite con me che vi porto in aula a vedere la terza forma oggi le ragazze hanno cominciato con una mandorla poi si è passati a una cosa un po' più difficile una pipe per arrivare alla terza forma che sarà lo scoprirete a e a e a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Elisa, com'è iniziato il tuo campus? Allora, questo campus è iniziato con tanta emozione, l'ho aspettato per tanto tempo. Bene, molto bene, devo dire tutto a passare. Abbastanza bene, pensavo peggio, pensavo peggio. Sta partendo pian piano in maniera rilassante, bisogna vedere fino a stasera come andrà. Benissimo, benissimo, questo è il mio secondo campus.